Ecco qua, oggi è il 25 aprile 2012, questo è un 25 aprile particolare, perché è un 25 aprile, io dico che è ancora resistente, perché in realtà non ci siamo ancora liberati dalla dittatura, o meglio ci siamo liberati dalla dittatura nazifascista, ma non ci siamo ancora liberati da un'altra dittatura, anzi un'altra dittatura è subentrata, che è quella del mercato, oggi comandano i voleri dei potentati finanziari, i voleri delle grandi banche e della BCE, addirittura questi poteri talmente sono forti che si arrogano il diritto di attentare anche a quelle che sono le norme costituzionali, si vuole mettere un pareggio di bilancio all'interno della Costituzione, che è un obbrobrio e assurdo, anche perché andrebbe sicuramente a collidere e a contraddire quello che è l'articolo 3 della Costituzione, in cui tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge e in cui la Repubblica ha l'obbligo di rimuovere qualsiasi ostacolo di carattere economico affinché l'uomo possa vivere secondo dignità, liberamente, questo non c'entra nulla col pareggio di bilancio. Questo è anche però un 25 aprile elettorale, noi siamo qua con il nostro furgoncino, quello di Paolo, perché stiamo facendo campagne elettorali in vista delle elezioni che ci saranno nella prima domenica, nel primo weekend di maggio, perché anche la Frosinone è una città che non è liberata, Frosinone non è liberata dal cemento, Frosinone non è liberata dallo smog e anche i poteri finanziari a livello europeo riverberano le loro nefaste conseguenze anche a livello amministrativo, basta vedere l'obbligo del patto di stabilità, un patto che fa in modo che un amministratore pubblico, un sindaco non possa spendere i soldi finalizzati ai servizi sociali, non è possibile, c'è un tetto dove un comune non può spendere di più, neanche addirittura se questi fondi vengono dal comune stesso, neanche se questi fondi vengono da un'attività del comune che riesce a essere remunerativa, questo guadagno non può essere reinvestito per i servizi sociali e quindi avanti con la privatizzazione dei servizi, avanti con la privatizzazione dei beni comuni, come se il referendum sull'acqua non fosse mai stato, l'espressione di 2 milioni e 700 mila cittadini non continuano nulla, non siano mai stati espressi. Vediamo che la nostra bandiera di rifondazione comunista è messa davanti a un divieto di accesso, noi invece vogliamo accedere, vogliamo cercare di cambiare la città, di liberare la città di Frosinone dal cemento, dallo smog e dal PM10 e liberare se possibile la nazione e anche l'Europa dalla dittatura della finanza e delle grandi banche. Procediamo la giornata che adesso come al solito noi documenteremo fedelmente. Ed eccoci arrivati alla villa comunale, stiamo apparecchiando per i commizi ma soprattutto stiamo apparecchiando per offrire a chi ci viene a trovare, a chi vuole sentire le nostre ragioni anche una qualche libagione, un po' di viveri per confortare le questioni politiche. Questa è la villa comunale ma lì c'è il grattacielo, quel famoso grattacielo che non sarebbe dovuto mai sorgere a Frosinone se si fosse rispettato il piano regolatore iniziale, quello presentato nel 1958. Lì doveva sorgere una chiesa con tanto di portico e più avanti lì c'è la zona delle terme dove in base a una mozione approvata dal comune e presentata alla rifondazione comunista questi lavori qui si dovevano fermare perché qui sotto ci sono le terme. Invece come vediamo, adesso passiamo, facciamo questa cosa tipo safari, ecco qua. Come vediamo i lavori proseguono senza alcun problema. Qui sotto potrebbero esserci dei reperti e in base alla mozione che è stata presentata da noi di rifondazione ed è stata approvata, qui si sarebbero dovuti fermare i lavori prima per accertare quello realmente che cosa ci fosse qui sotto, se veramente ci sono dei reperti che sicuramente ci saranno perché questa è un'area totalmente interessata da questi reperti. Per esempio lì, quel palazzo proprio sta proprio su reperti delle terme romane. Ecco qua. Dopo bandiere, vessilli elettorali, ecco il tavolo dove ci si rifocilla. Ecco, spettacolare questa sasicchiata, bellissima, sopra il sindaco. Noi mangiamo sopra il sindaco. Certo, noi l'abbiamo voluto a questa candidatura per mangiarci sopra. Scusate la battutaccia, ma per adesso... Ma la campagna elettorale è anche questo, non si può sempre parlare, incazzati, sempre. Anche questo, noi mangiamo. Ecco. Eccolo i contenuti forti della campagna elettorale di Marina Covari sindaco, queste sono le nostre idee. Però tutto quello che noi mangiamo ce lo facciamo da soli. Ecco, noi non prendiamo niente dagli altri, è tutto perfettamente fornito dal comitato elettorale di Marina Covari. Contenuti forti della campagna elettorale. Primo punto del programma sono queste bellissime salsiccette, che sarei a primo punto del programma. E maggiormente sull'ambiente casareccio. Esatto, esatto, questa è tutta roba casareccia. E' un esempio che sul sito ci mangiamo. No, adesso, al di là degli scherzi, c'è un punto che riguarda anche l'agricoltura. E' alla fine quello che viene fuori dal nostro discorso sull'agricoltura, magari sono anche queste cose. Questo è di Alessandro. Che potrebbero anche simulare un'economia del territorio, un'economia agricola che manca completamente nel nostro territorio e ormai è abbelato per usare un eufemismo completamente dal cemento. In una città cementificata ovviamente il picnic non si fa sull'erba, ma si fa sul selciato, ma magari forse è selciato, proprio direttamente sulle lastre d'asfalto. Ovviamente tra le caratteristiche dell'uomo c'è quella di adeguarsi alle situazioni. E' certo. E' un uomo si avviva a fare il picnic sul cielo. A parte la villa comunale, a parte le terme romane da questa parte che sono state completamente sommersi. piccnic sull'asfalto, è tipico di Frosinone. Ma io lo so perché ho da Marina. Ci sono candidato. No, e siamo praticamente realizzando le domande per una sorta di intervista a tutti. Ah, ho capito. Stiamo praticamente preparando l'autore. Quindi ci sta... Vediamo il programma nostro. Che vogliamo parlare? Se ti dico il palco sul film è cosa, che ne so, mi viene in mente a me una cosa. urbanista io farei tu parlo manda gli altri rispondono si l'intervista doppiata di iene tu farei sai dove stanno le terme romani c'è le cose proprio la sepolte lì sotto pal backstay bellino dai fallo si si carino però se ti scansi riesca pure a fare l'inquadro di ah ma lui a me ne pensavo stavo là nome Luciano cognome Granieri sei a favore della cittadinanza municipale si che ne pensi delle unioni civili penso che vadano approvate come è successo a Cassino perché i diritti devono essere riconosciuti a tutti come vorresti investire i soldi del comune soprattutto per i servizi sociali e per assicurare un lavoro a chi non ce l'ha per il reddito di cittadinanza se ti dico ambiente penso che bisogna liberare Frosinone dal cemento e dal PM10 e dall'impinamento perché votare Marina perché è l'unica che può effettivamente fare delle cose nuove per Frosinone e soprattutto fare un nuovo piano regolatore che sia completamente di rottura con quello che c'è stato fino adesso ti sarei mai fatto le canne? no si si aspetta rimani perché lui guardi una cosa su è il suo no è una cosa di là poco più di là poco di me se ti dico agricoltura dico che è un aspetto della nostra economia locale che non è stato mai valorizzato abbastanza se andrebbe valorizzato molto di più sopra o sotto? sopra e sotto aspetta 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 anche la testa l'ha detto la stampa la provincia anche questi hanno già fatto l'accordo riprendimi hanno già fatto l'accordo senza di noi hai capito? ah ecco non c'è così non ci faranno fare nessun accordo fate tranquilli c'è della serie che al ballottaggio andremo con Taviani come funziona? ma la salute scusami Lucia dicevo che al ballottaggio andremo con Taviani quindi ma con chi? no che sei scherzato il nostro sindaco già si è venduto la poltrona ma ecco questa è la motivazione politica il vino certamente perfetto